Continua il giro di vite della polizia tunisina dopo l'attacco terroristico di venerdì scorso. La strage di turisti di Sus, 38 straniari uccisi a colpi di Kalashnikov mentre prendevano il sole sulla spiaggia di due grandi alberghi affacciati sulle acque del golfo di Amamet. 12 persone sono finite in manette, sono tutte sospettate di avere legami con Sefedin Yacoubi, il jihadista autore del massacro. A Sfax, seconda città del paese, le forze di sicurezza hanno smantellato una cellula terroristica legata all'ISIS. e che potrebbe avere, anche se ancora non ci sono conferme, possibili legami anche con l'attentatore di Sus. Secondo fonti di stampa locale, tre persone sono state arrestate e in questo momento sarebbero già sotto interrogatorio a Tunisi, mentre altrettante sarebbero in fuga. Nel frattempo, il ministro dell'interno tunisino, Najem Garsali, è arrivato oggi a sorpresa da Amamet per verificare il livello di sicurezza nelle località turistiche e sarebbe rimasto sorpreso per la carenza di agenti, nonostante i rinforzi inviati dal governo dopo la strage di venerdì scorso. Questo all'indomani dei primi provvedimenti presi proprio dal ministero nell'ambito della catena di responsabilità. Provvedimenti che hanno disposto la rimozione e la sostituzione dei capi della sicurezza dei distretti di Sus, Monastir e soprattutto di Keiruan, la città sacra all'Islam, e ritenuto un bastione dell'estremismo salafita, dove aveva studiato anche Yacoubi.